Io sono responsabile tecnico in azienda, noi ci occupiamo di produzione, distribuzione e trasformazione di materiali isolanti, sia da un punto di vista termico sia da un punto di vista acustico, per il settore edilizio e per il settore industria. Nel caso specifico, parlando soprattutto di sostenibilità di edilizia e quant'altro, abbiamo portato alcuni esempi di determinate applicazioni su progetti importanti nell'ambito soprattutto territoriale di Reggio Emilia, come il cantiere officine reggiane, dove siamo intervenuti in qualità di partner barra fornitore di materiali isolanti in corrispondenza, diciamo in sintonia con quante erano le richieste della progettazione. La nostra esperienza si basa da ormai 40 anni, da dove produciamo queste tipologie di materiali e in questo caso siamo in grado di fornire sia il materiale isolante, ma anche dove è richiesto una consulenza legata alla problematica specifica, per cui diciamo che il servizio che vogliamo dare è quello anche di un servizio di consulenza dove serve per definire insieme alla progettazione, alla direzione e alla proprietà magari le soluzioni più adatte e più idonee.